Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato il progetto presentato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano come capofila e dal Comune di Grosseto per la realizzazione del cosiddetto Centro delle Scienze e della Tecnica. Il finanziamento pari a 100.000 euro servirà a creare un laboratorio multidisciplinare in ambito tecnico-scientifico, dando spazio a scienze naturali, biologia e biotecnologia. Questo finanziamento che ci è stato erogato della cifra complessiva di 100.000 euro permetterà appunto di allestire un laboratorio multidisciplinare all'interno dei locali della Fondazione in Via Ginori nel Centro Storico di Grosseto. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti di ogni ordine grado ma anche i docenti e i cittadini con iniziative mirate. Servirà da supporto per le scuole della nostra città, le scuole della provincia ma perché no anche le scuole a livello regionale e nazionale dove i ragazzi potranno venire insieme a loro insegnanti e fare delle esperienze pratiche di carattere tecnico-scientifico proprio come vengono fatte all'interno dei laboratori di ricerca in ambito accademico. In particolare il bando ministeriale è stato seguito dalla presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, Gabriella Papponi Morelli, con i biologi dell'Università di Siena, Giacomo Spinsanti, responsabile del progetto per la fondazione e Ottavia Spiga, referente scientifico. È un modo per avvicinare i ragazzi alle scienze e per mostrare loro non solo il lato più teorico ma anche quello più pratico, che spesso è quello più accattivante, che permette di aiutare nella didattica a formare gli scienziati del futuro.